No, no, in culo, oggi niente caffè, eh? Dai, tutto in casa. Ah, non hai preso i fichi, hai preso i voti. Ma quei voti? L'abito ho preso, te la vi, rosso, molto raro. Certo, basta prendere, no? Chi se ne frega degli altri? Non lo sai cosa hai fatto te, i tuoi vestiti da deficiente? Oh, piano, porta il rispetto, porta il rispetto, questa roba sacra, le amiche pugnette, eh? Ma ti perdono, per stavolta ti perdono, per stavolta, vai con Dio, eccetera, eccetera, di qua e di là via. Eh, scusa, fai? Ma in giro vestito da prete? Ma che prete? Cardinale, rosso, c'ho anche il mitra, patache. C'hai anche il mitra. Lo sai almeno cosa ci faranno qui? Sì, lo so, la città di Dio ci fanno, vedi? Mi hanno già dato le chiavi. Ti ha chiesto di tanto furbo, eh? Intelligentone. Ricorda che c'è sempre qualcuno più furbo di te. Adesso ti dimostro che sono più intelligente io. Pensa a un numero, pensa a un numero. Che numero? Pensato? Dimelo. Diciotto. Sbagliato. Patacca. Ma credi che ti lasciano qui con la polenta, il caffè, il tuo formaggio? Se qui sbaraccano, sbaraccano tutto. Tu vai in giro col tuo vestitone rosso da cardinale, qui via tu, dalle giacchine, il tuo emporio, i tuoi cappelli. E questo cos'è? Questo cos'è? Un palone. Un palone da rugby. Rugby, niente, eh? Ma su, capiamo, te di rugby. Dai, come al curma, oh. Allora, otto di mischie, due mediani, tre quarti, estremo e zack. Ma cosa vuoi capire te di rugby? Ti vedo il pugnetto qua e ti dà con chi... ... ... ... ...